Noi abbiamo accettato ben volentieri l'invito del Comune di Vallelaghi per partecipare e promuovere questa manifestazione che fin da subito ci è sembrata molto interessante perché va a proporre lo sport a 360 gradi, che è un po' la mission del gruppo sportivo Fraveggio, perché si va a interessare un territorio molto bello, fruibile a tutti, dai bambini agli anziani, su un percorso appunto che tocca il lago di Terlago, molto bello, semplice da percorrere, per poi spostarsi sulla ciclabile ed entrare nel borgo di Terlago e poi rientrare nuovamente sulle rive del lago dove posta tutta la location, dove ci sarà appunto l'arrivo, le iscrizioni, partenza e quant'altro insomma, un momento di festa da non perdere.